benissimo buongiorno amici di matto scacco questo video è riservato per chi appena iniziato a giocare a scacchi e conosce a malapena le regole e si sta domandando ma in una partita di scacchi quali sono le mosse migliori ci sono delle mosse migliori di altri assolutamente sì e lo andremo a vedere proprio oggi giocherò contro un computer a livello base 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 affinché possiamo commentare insieme un pochettino queste mosse vai andiamo a giocare in questo modo vai partita tocca a me come sapete a scacchi chi muove per primo è il bianco e quindi qui posso scegliere fra muovere tra tutti questi piedoni o i cavalli che possono saltare sono gli unici pezzi che possono saltare ricordiamoci e di conseguenza cosa è bene aprire è bene aprire solitamente se infatti andate a spulciare anche tutte le partite dei grandi maestri quasi sempre muovono uno di questi due pedoni di due non di uno perché perché è bene all'inizio prendere subito spazio e non giocare in modo timido e se ti stai domandando perché andare a scoprire così tanto il re che è il pezzo più importante di tutto lo schieramento fra poco avrai la risposta quindi questa è considerata una delle mosse migliori in assoluto il mio avversario anche lui giustamente inizia a muovere i pedoni centrali questo tipo di difesa prende il nome di difesa scandinava a noi ora onestamente non ci interessa però qui c'è subito un punto di contatto qui possiamo scegliere se catturare che poi lui a sua volta ci catturerà ecco il mio consiglio è sempre quello di andare a pensare almeno una mossa dopo cosa accade perché fin qui ci arriviamo tutti a dire che guadagniamo un pedone però bisogna almeno domandarsi se lui poi è in grado di fare qualcosa quindi se vado un pochettino più in là con le mosse mi rendo subito conto che lui è in grado di riprendersi il pedone quindi siamo uno a uno è un vantaggio ma dipende allora proviamo a fare questa mossa poi magari lui non se ne accorge no invece se ne è accorto ok a questo punto abbiamo aperto il nostro pedone io ho quasi paura perché ho il mio re ho la strada davanti al mio re aperta non aver paura perché quello che andremo a fare il primo possibile sarà l'arrocco se non conosci di che cosa si tratta qui su matto scacco abbiamo fatto un video sull'arrocco quindi ti consiglio di andare a vederlo però prima di fare l'arrocco c'è bisogno di fare altre cose ora gli scacchi sono un esercito no ci sono le torri che sarebbe il castello poi ci sono i cavalieri e poi ci sono gli alfieri combattenti poi ci sono i pedoni che sono la prima fila ecco devi pensare a questo come se fosse un esercito secondo te si può vincere una guerra con l'esercito che non va mai in offensiva ma rimane sempre a casa ovvio che no quindi le mosse migliori almeno per le prime mosse in assoluto sono quelle di andare a portare fuori tutti questi pezzi cosa significa fuori ovunque basta che non restino a casa questo tipo di tecnica prende il nome di sviluppo dei pezzi ora potrei giocare che ne so l'alfiere qui è uno sviluppo di pezzo potrei giocare il cavallo qui è uno sviluppo di pezzo potrei giocare il cavallo qui eccetera tutte mosse sicuramente di sviluppo ma se riusciamo a giocare mosse di sviluppo che hanno allo stesso tempo ulteriori ragioni ragioni e miglia ancora per esempio qui viene in mente che cavallo c3 è sia una mossa di sviluppo perché tolgo un cavallo e lo porto un pochettino in gioco ma allo stesso tempo se guardo una mossa un pochettino più avanti questo cavallo minaccia la donna quindi se lui non dovesse accorgersene un po' raro però io gli catturo la donna e in gergo tecnico si dice che sto guadagnando un tempo perché se io faccio questa mossa lui non può a sua volta continuare lo sviluppo portando fuori i cavalli o altre cose ma deve prendere provvedimenti su questa donna quindi l'obbligo a fare una mossa che in realtà non vorrebbe fare perché anche il suo scopo del mio avversario è quello di portare fuori tutti questi pezzi ma adesso però minacciandogli la donna deve spostare la donna dimmi che la vede ok ha spostato la donna ottima posizione solitamente si ritira in a 5 in d6 o in d8 ok io devo continuare con il mio piano devo continuare a sviluppare i pezzi quindi diciamo che muovere i cavalli verso l'interno della scacchiera è sempre cosa buona e giusta il mio avversario giustamente prende spazio con il pedone centrale devo solo calcolare bene tutto che magari non mi vada ad attaccare con robe di questo tipo e mi sembra che non ci siano problemi perché sulla cattura ma sembra che non ci siano problemi quindi chiaramente ecco questa è un'altra cosa importante prima di pensare a fare cose tu devi assicurarti delle idee del tuo avversario l'errore più tipico di chi inizia è giocare a monosenso ma noi giochiamo contro un avversario quindi finché non abbiamo capito qual è l'idea che sta dietro la mossa del nostro avversario non dobbiamo muovere quindi abbiamo detto che una delle mosse migliori da fare all'inizio qui siamo alla quarta mossa è quella di arroccare cioè di portare il re nell'angolino al sicuro perché al centro della scacchiera non sta tanto bene che cosa che manca per portare il re nell'angolino è sicuramente questo alfiere che intralcia la possibilità del re di andare nell'angolino quindi togliamo questo alfiere ora si può mettere qui 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 cerchiamo di ragionare insieme su quale sia la casa migliore allora la casa evidenziata in rosso in e2 si può mettere nulla di che però un po un po uno sviluppo passivo d3 anche qui si può mettere ma tappa l'avanzata del pedone evidenziato in verde c4 sembra una buona idea perché da qui l'alfiere riesce avere una buona diagonale b5 sembra interessante da anche scacco al re e da una diagonale discreta a6 non è una buona cosa perché verrebbe catturato quindi le mosse che da prendere in considerazione per lo sviluppo di questo alfiere sono c4 e b5 scegliamone una come per esempio c4 e adesso lui ok ha giocato in questo modo probabilmente voleva sorreggere un pochettino questo pedone qui centrale e adesso senza dubbio visto che non mi sembra una mossa offensiva non credo che la posizione sia cambiata di molto io posso andare ad arroccare o queste sono le mosse migliori facciamo un attimino un sunto della situazione il mio avversario è praticamente col tutto il suo esercito a casa è tutto ancora in zona difensiva io invece inizio andare in zona offensiva se ci fai caso la scacchiera è divisa in due parti la mia metà campo come se fosse un campo da calcio e la sua metà campo guarda come io pian pianino inizio con i miei pezzi ad andare un pochettino verso l'altro lato della scacchiera mentre lui con i pezzi e con i pezzi si intende tutto tranne che i pedoni è ancora a casa tra l'altro questa regina tappa le ali tarpa le ali a questo alfiere quindi la situazione è un poco tragicomica ora potrei pensare anche a sacrifici di questo tipo però siccome non voglio complicarmi la situazione all'inizio le mosse migliori come ti dicevo non dimenticare mai questo principio è quello di tirare fuori tutti i tuoi pezzi poi si pensano a piani d'attacchi robbie complicate però prima pensiamo a cose cose nostre altro stavo pensando che c'era questo sacrificio questo scacco no g6 no niente niente ok dicevo tiriamo fuori i pezzi chi sono i pezzi che mancano ad essere tirati fuori la torre perché qui che non fa nulla la regina che qui che non fa nulla l'alfiere che non fa nulla questa torre che non fa nulla quindi finché io non porto in gioco tutti questi pezzi è un po prematuro andare a pensare dei piani d'attacco perché siamo solo alla sesta mossa e c'è grande parte dell'esercito che è rimasto a casa un po come lui che cosa facciamo mobilitiamo questo esercito per esempio questa torre se io riuscissi a farla muovere di un passo andrebbe praticamente a fare subito pressione sul re avversario quindi una torre in e1 sicuramente molto più attiva che in f1 ok lui muove i pedoni probabilmente vuole un pochettino avere un po di gioco sull'alla di donna si chiama oppure vuole far uscire la propria torre quindi questa può essere un'idea un'idea un po lenta però è sicuramente un'idea vediamo vediamo che cosa fa guarda come il mio avversario continua a fare mosse di pedoni mentre io continuo a fare solo mosse di pezzi perché perché i pezzi valgono di più dei pedoni quindi è chiaro che se io vado in attacco con i pezzi e lui va in attacco con i pedoni vincerò io perché i pezzi valgono di più non so se lo sai ma ogni pezzo ha un suo valore no l'attore per esempio vale 5 punti un pedone vale 1 chiaro che io sto entrando in gioco con i pezzi pesanti e fra poco la cosa si farà sentire per esempio adesso mi piacerebbe portare in gioco questo alfiere questo alfiere è bloccato è bloccato quindi per portarlo in gioco per esempio mi basterà muovere questo pedone lo posso muovere di una casella ma lo posso muovere anche di due caselle ricordati che le spinte di due sono molto più aggressive e in questo caso questa spinta ha un senso libero la diagonale a questo alfiere ma inizio a creare espressione su questo pedone che ripeto non poteva catturare non poteva perché era inchiodato cioè c'era la torre che attaccava il suo re adesso la situazione inizia a farsi interessante potrei iniziare a cambiare un pochettino di pezzi però poi lui mi potrebbe cambiare la regina allora siccome sento di essere in grande vantaggio non voglio cambiare la regina quindi non faccio questa cattura perché lui potrebbe mangiarmi la regina è vero che poi la rimangio ma quando stai bene quando senti di avere un gran vantaggio un pezzo importante come la regina ti conviene tenerlo quindi vediamo un po' se c'è un modo per tenere la regina e riuscire a giocare altrimenti dai catturo catturo va bene facciamo quelli che giocano in modo normale catturo va bene va bene così va bene oh meno male che non ha preso la regina va bene il mio avversario che cosa ha fatto ha fatto una grande svista sta continuando a giocare per i suoi piani senza vedere che uno posso mangiare la regina ma per fortuna anche se lui non l'ha calcolato può rimangiarla con tre pezzi ma io posso continuare a mangiare i suoi pedoni quindi perché no continuiamo a mangiare continuiamo continuiamo ha spostato il re allora qui il mio avversario è un pochettino distratto perché non ha visto che poteva mangiare con questo pedone ma soprattutto inizia essere a corto di spazio una delle cose più brutte a scacchi è ad essere a corto di spazio guarda i suoi alfiere qui non si può muovere qui non si può muovere questo alfiere qui non si può muovere qui non si può muovere il cavallo è ancora a casa la torre ancora a casa la torre ancora a casa io invece guarda che grande mobilità ho con i miei pezzi quindi il numero di caselle le caselle sono 64 più caselle di mobilità hanno i tuoi pezzi è un po come giocare a risico più territori controlli e questo in verde ti ho evidenziato la potenza di fuoco del mio alfiere il rosso ti ho evidenziato la potenza di fuoco dei suoi alfieri guarda quante caselle controlla il mio alfiere quante caselle controllano i suoi alfieri quindi per questo devi cercare di mettere i pezzi in un posto dove riescono ad avere una grande potenza di fuoco adesso tocca a me potrei pensare di sviluppare questo alfiere che è l'ultimo pezzo ma prima di andare a testa bassa cerca sempre di vedere che cosa ti offre la posizione perché io potrei andare a testa bassa ok allora c'è il principio che mi dice di togliere tutti i pezzi della loro casa iniziale quindi dovrei spostare questa regina questo alfiere questa torre ci sta quindi potrei mettere magari l'alfiere qui dove ha una buona diagonale eccetera eccetera ma la posizione in questo caso richiede un pochettino più di attenzione se vedo c'è un punto di contatto qui quindi io con questo pedone potrei scegliere se catturare il pedone in b7 in g7 scusami o il cavallo in a7 secondo te è meglio catturare con il cavallo il pedone oppure altra domanda è meglio catturare con la torre o col pedone chiaramente sempre meglio catturare col pezzo più debole il pezzo più forte quindi andiamo con cavallo e7 scacco tra l'altro scacco al re e lui si è difeso catturando ok siamo in questa posizione siamo all'undicesima mossa io sento di avere un grande vantaggio anche un vantaggio proprio di materiale si dice perché io ho i due cavalli e due alfieri lui ha due alfieri e un solo cavallo ora potrei cambiare le donne sicuramente potrebbe essere una strategia interessante ma voglio cercare un pochettino di più da questa situazione vediamo un po cosa si può fare credo che spostare la donna qui magari mette allora dai completiamo il nostro sviluppo e buonanotte allora c'è un principio quindi questa è un'altra cosa che devi sapere a scacchi si ragiona spesso di principi perché questi principi ti permettono di pensare un po di meno più acquisisci questi principi e prima diciamo riuscire a giocare a scacchi senza dover pensare mille ore su ogni mossa ora c'è un principio che è il principio della semplificazione che dice quando tu sei in vantaggio di materiale e abbiamo visto che ho un cavallo in più rispetto al mio avversario no si dice che sono in vantaggio di materiale quando sono in vantaggio di pezzi un modo semplice per velocizzare la partita e arrivare subito a chiuderla è quella di scambiare pezzi scambiare pezzi cosa significa proporre dei cambi per esempio se metto il mio alfiere qui che guarda il suo alfiere è vero che lui mi può mangiare il mio alfiere ma è vero anche che io glielo rimangio quindi si dice alfiere per alfiere si dice che è uno scambio di pezzi ecco lui non ha accettato questo scambio di pezzi ma adesso però io l'accetto io anzi adesso è un problema quindi se lui mi avesse catturato questo alfiere io glielo avrei ricatturato e continuavo a ridurre il numero di pezzi in gioco perché torno un attimo indietro poi vado subito avanti perché eccoci qui perché vabbè non mi fa andare indietro dopo la vediamo perché volevo cambiare i pezzi perché immaginati di essere in un esercito e di essere magari in 10 contro 8 10 contro 8 magari se gli 8 sono forti riescono a combattere a cavarsela allora riduciamo ancora si ammazzano si ammazzano e arriviamo magari ad essere 8 contro 5 ora se i 5 se la cavano riescono ancora a cavarsela contro gli 8 si ammazzano si ammazzano e alla fine sono 3 contro 1 ecco per quanto l'1 possa essere immortale i 3 vinceranno quindi questo è il principio della semplificazione in modo da far valere il più possibile la tua forza numerica ora io posso catturare questo alfiere tu dirai lo può ricatturare o con il re o con la regina questo è un caso particolare in cui lui non può catturare né con l'uno né con l'altro perché se catturo l'alfiere la donna non può catturare perché risulta inchiodata cioè la donna non può lasciare che io la prossima mossa gli catturo il re e non può catturare col suo re perché altrimenti verrebbe mangiato dalla mia torre quindi cattura d'alfiere scacco il re seduto spostare e adesso catturo di donna con scacco di scoperta mamma mia ok e adesso credo che siamo vicini allo scacco matto vediamo un pochettino se riusciamo a creare una situazione interessante allora io ho sempre attacchi con la mia donna di scoperta ho sempre la mia torre che controlla tutta questa colonna dovrebbe esserci sento odore di di matto però 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 scacco il re va qui dietro e donna qui sotto matto si dovrebbe esserci il matto vediamo se l'ho visto bene alfieri in e7 doppio scacco ragazzi nel doppio scacco il tuo avversario non può fare tra l'altro che andare via ok e a questo punto c'è il matto vengo giù in di 8 con la regina e lui non potrà scappare qui perché c'è il mio alfiere non potrà scappare qui perché c'è il mio alfiere quindi di conseguenza scacco matto non potrà mangiarmi la regina perché la regina è sorretta da un pezzo bam scacco matto partita finita in 16 mosse e se la rivediamo vediamo subito che ah qui tra l'altro ho fatto una blanderata mi dice vediamo un po cosa cosa è successo in questa partita se ho perso qualche occasione incredibile la cosa bella è poter analizzare le proprie partite ok no niente non c'era nessun errore quindi rivedendo la partita che cosa è successo che io ho iniziato a tirare fuori i pezzi lui invece non giocava con i pezzi quindi ha iniziato a muovere un po i pedoni io ho iniziato a tirare fuori i pezzi e lui continuava a muovere i pedoni quindi è questo sito che è chess.com che ti fa un po l'analisi e ti dice guarda questa mossa è buona non è buona quando c'è il punto di domanda magari non è una mossa proprio precisa al 100% io qui ho roccato lui mi consigliava di spingere questo pedone ma va bene va ritorno indietro con la regina e a questo punto inizio a puntare tutti i miei pezzi contro di lui lui muove un po i pedoni dice il computer dice sì è una mossa buona però migliore sarebbe stato iniziare a muovere i pezzi ricordati se non muovi se non utilizzi tutto il tuo esercito gli fai un gran piacere al tuo avversario qui spingo questo pedone per inchiodare catturo a cui mi diceva appunto di togliere la donna per evitare il cambio catturo catturo di nuovo catturo qui chiaramente il mio avversario ha sbagliato e adesso chiedo il cambio degli alfieri non si rende conto catturo l'alfiere non può catturare e ora scacco di scoperta e adesso di nuovo scacco e alla prossima scacco matto quindi la partita è degenerata velocemente a parte per qualche svista da parte del mio avversario però che cos'è che veramente l'ha fatto andare in crisi il fatto che mentre lui muoveva solo i pedoncini io avevo già tre pezzi pronti all'attacco ripeto è come essere in un esercito siete 16 contro 16 ma io inizio ad andare ad attacco con quelli forti mentre tu inizi ad andare ad attacco con quelli deboli è chiaro che i miei forti avranno la meglio infatti nel giro di poche mosse è andata così quindi le mosse migliori in una partita di scacchi per cominciare sono quelle di iniziare a spingere i pedoni centrali sia quello della regina e quello del re tirare fuori dalla loro casa di partenza tutti i pezzi forti e dopodiché le occasioni verranno strada facendo bene io spero diverti dato un pochettino degli input con questa con questa piccola partita giocata contro il computer e poi analizzata se vuoi migliorare ancora più il tuo gioco sicuramente giocare online ti aiuterà tantissimo analizzare le tue partite ti aiuterà tantissimo ma vienici a trovare all'interno della mattoscacco academy perché ci saranno dei corsi che faranno sicuramente al caso tuo che ti faranno migliorare nell'accademia di mattoscacco abbiamo persone che sono partite da un livello amatoriale sono arrivati veramente a un livello intermedio quindi vienici a trovare per fare il salto di qualità ci vediamo alla prossima ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao